Fino al 25 settembre è aperta Meldola presso la Galleria Michelacci la mostra La Donna e la Grande Guerra. Perché l'attualità di questo tema? Perché abbiamo scelto questo tema? Innanzitutto perché la donna è stata protagonista nella storia, in particolare nel Novecento, ma spesso questo protagonismo viene trascurato. In seconda battuta dobbiamo considerare l'attualità di questo tema, una portata contemporanea, attualissima. Pensate ai dibattiti di questi periodi recenti, il Burkini, le Femen, tutto ciò che accade intorno al tema dei femminicidi, ma anche della pornografia. Ecco, anche tutte queste tematiche che riguardano la società di massa e la comunicazione di massa trovano un riscontro di più, trovano le loro radici in quelle che sono state le esperienze nel periodo che ha visto l'Europa travagliata dalla Grande Guerra. Parlare di donna e Grande Guerra significa andare alle radici dell'emancipazione di questo difficile percorso delle donne per raggiungere la parità dei diritti in Europa. Parità di diritti che spesso veniva associata al servizio militare. Il servizio militare era esclusiva degli uomini, quindi solo gli uomini potevano incidere nelle società e nella vita politica del paese. Questo confine così marcato fino allo scopio del primo conflitto mondiale diventa più labile proprio durante il primo conflitto mondiale. È questo il periodo in cui si passa dalle donne soldato, dalle eroine romantiche sullo stampo di Anita Garibaldi, alle vere e proprie soldatesse. I primi esperimenti in effetti appartengono agli eserciti dell'Europa orientale, parliamo della Serbia, oppure dell'esercito zarista in Russia, dove viene creato il cosiddetto battaglione della morte, in cui le donne non solo vengono arruolate ufficialmente, ma vengono riunite in reparti realmente combattenti. Sono esperimenti che hanno magari vita breve, che spesso diventano inconcludenti anche per lo scetticismo delle autorità militari maschili, maschili e maschiliste, che non vedono di buon occhio l'ingresso nell'ambiente militare delle donne. Ma anche la stessa Inghilterra, col corpo delle volontarie spedite in Europa nel 1917 sul fronte francese, si renderà protagonista di una grande trasformazione che diventerà inarrestabile. Il secondo punto, perché non solo di guerra si parla, è quello del rapporto con il corpo femminile. Durante gli anni della Grande Guerra inizia a maturare quel paradosso che ci siamo portati fino ai giorni d'oggi del rapporto tra comunicazione, ma di più, tra società e corpo femminile. Il nudo femminile è la massima espressione della libertà della donna, il nudo femminile è anche la massima espressione della pornografia, cioè della percezione della donna come oggetto del desiderio maschile. Questo equilibrio, ben espresso nella mostra, prende spunto da tutta una serie di illustratori che erano inseriti nel contesto culturale dell'epoca e ben seppero guardare in avanti per lasciare una testimonianza indelebile di queste radici, di questa origine della tematica femminista e femminile per l'Europa moderna.